Il maltempo ha provocato nel pomeriggio di sabato 2 marzo uno smottamento a Borgo Ticino all'incrocio sulla statale 32 in direzione Borgomanero all'altezza della frazione Campagnola. Come comunicato dal sindaco Alessandro Marchese, a seguito di verifiche da parte dei vigili del fuoco e le previsioni meteorologiche in netto peggioramento, al fine di garantire la pubblica incolumità, è stata disposta la chiusura dell'incrocio in direzione Borgomanero. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.